Dal Vangelo secondo Luca, in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, allora sappiate che la sua devastazione è vicina. Allora coloro che si trovano nella Giudea fuggano verso i monti, coloro che sono dentro la città se ne allontanino e quelli che stanno in campagna non tornino in città, quelli infatti saranno giorni di vendetta affinché tutto ciò che è stato scritto si compia, in quei giorni guai alle donne che sono incinte e a quelle che allattano perché vi sarà grande calamità nel paese e ira contro questo popolo, cadranno a fil di spade e saranno condotti prigionieri in tutte le nazioni, Gerusalemme sarà calpestata dai pagani finché i tempi dei pagani non siano compiuti. Vi saranno segni nel sole, nella luna, nelle stelle e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte, allora vedranno il figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria, quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo perché la vostra liberazione è vicina. Oggi, leggendo i testi che la provvidenza ci consegna, si rimane un po' sconvolti. Ci vengono presentati scenari che ci rimandano alla fine del mondo. Il brano del Vangelo descrive la distruzione della città di Gerusalemme avvenuta a causa dell'esercito romano. Luca legge tale evento come la conseguenza per non aver accolto il passaggio del Messia, il Signore Gesù, venuto a perdonarci dai peccati e dalla morte. Luca attraverso questi eventi anche dolorosi legge la storia come storia di salvezza e vi intravede tre tappe ben precise. Il tempo dell'antico patto, ormai superato perché il popolo non ha compreso il passaggio del Messia Gesù e quindi lo ha rifiutato, da quel rifiuto è nata la nuova alleanza in cui la Chiesa è il nuovo popolo santo chiamato a dare testimonianza al suo Signore. L'ultima tappa è scandita dall'attesa dell'avvenuta finale di Gesù. Ci saranno fatti i segni sconvolgenti che la prepareranno. In tutti questi eventi l'invito che ci fa il Signore è carico di speranza. Risollevatevi e alzate il capo, la vostra liberazione è vicina. Sono due oggi i messaggi che ci vengono consegnati. Bisogna imparare a leggere la propria storia personale come storia di salvezza. Nella morte e risurrezione di Gesù non c'è evento di dolore e di morte che non diventi anche per noi evento di vita e di risurrezione. Siamo capaci di leggere così la nostra vita. Riusciamo a costruire la nostra storia alla luce del Vangelo per scorgervi la presenza di Gesù nostro Salvatore venuto a riscattarsi. Se così stanno le cose, come cristiani siamo chiamati a coltivare un sano ottimismo che ci apre alla speranza. Cristo ha vinto il male, il maligno, e ci ha aperto le porte del Paradiso. Come diceva l'Apocalisse nella prima lettura, noi siamo beati perché invitati alle nozze dell'agnello. Lui è il nostro difensore, lui è il nostro Signore e con l'immagine dell'invito al banchetto di nozze ci ricorda che il suo desiderio è portarci con sé in Paradiso, nel suo regno di luce e di pace. Anche noi siamo chiamati a trasformare il luce in ogni evento carico di buio, di tristezza e di desolazione. Questa è la nuova evangelizzazione del mondo. Il Salmo 90 ci invita alla preghiera capace che esplode in un inno di lode e di ringraziamento perché il suo amore è per sempre, la sua fedeltà di generazione in generazione. Combattiamo ogni idea catastrofica e pessimista, aggrappiamoci a Cristo che ci stana dai nostri inferni terreni per portarci alla luce del cielo.